Sono Stefano Lamalfa, mi occupo di enti locali nella segreteria provinciale di Biella del Partito Democratico. Gli enti locali sono in questo momento un tema che è sulla bocca di tutti, si parla di accorpamenti, si parla di tagli. La realtà è che il Governo nazionale ha tagliato i fondi ai comuni, dimostrando così la propria incapacità di gestire nei fatti i temi territoriali. Stiamo parlando in maniera vuota di federalismo ma in realtà mettendo in grande difficoltà le amministrazioni locali. Il PD non ci sta e vuole dimostrare di essere in grado di amministrare bene sia a livello nazionale che a livello locale.